Signori, buonasera, Luca di approcciala.it, siamo in diretta, diretta numero 17 Oggi si fa domande e risposte, come praticamente quasi sempre Atteniamo che qualcuno si colleghi Tanto solite cose per chi guarda dalla pagina Facebook o dal canale YouTube Se vuoi guardare queste dirette in diretta E fondamentalmente il beneficio di guardarle in diretta è che puoi fare le domande Bisogna accedere al gruppo Facebook di cui trovi il link in descrizione C'è scritto, vedi nella descrizione, c'è scritto gruppo segreto, accedi al gruppo Per chi invece le guarda adesso in live dal gruppo Facebook O anche differita dal gruppo Facebook, per fare le domande le potete fare nei commenti Ciao Ibrahim, figo c'è una nuova grafica nelle dirette, non lo sapevo, bello E quindi per chi le guarda adesso dal live dal gruppo Facebook le potete fare adesso nei commenti Le domande, tanto io ce l'ho già le domande che mi avete mandato in anticipo Quindi per chi le vuole fare in anonimato me le può mandare in anticipo durante la settimana Ci sono tutte le varie modalità nel gruppo Facebook, c'è il link per fare le domande in anonimato Quindi come dicevo oggi ci si fa domande e risposte Ricordo per chi fosse interessato ai corsi, avesse domande riguardo ai corsi C'è il numero di telefono dell'assistenza clienti dove potete scrivere su WhatsApp Il numero è 351-646-6774 Lo trovate anche nella descrizione però solo per chi guarda da YouTube C'è nella descrizione Per chi invece appunto fosse lì interessato ai corsi al vivo Ci sono dei prezzi lancio fino al 31 di ottobre Quindi per chi adesso li guarda dal gruppo Facebook avete ancora tipo 3 giorni Oggi è il 28 di ottobre Per chi guarda da YouTube o la pagina Facebook il tempo è già finito Quindi i prezzi sono già saliti Ciao Gianni, buonasera, buonasera a tutti Quindi come ho detto ci sono ancora 3-4 giorni per riscriversi ai corsi con i prezzi lancio E poi i prezzi vanno su Quindi io vi consiglio di affrettarvi Poi niente Quindi partiamo con le domande Praticamente sono tutte domande in anonimato Quindi partiamo con la domanda di Carlo Ma se ci siete Qualcuno scrive qualcosa Perché tipo io vedo il contatore a zero Cioè non vedo niente Perché Facebook ha cambiato la grafica Però vedo che alcuni di voi si sono collegati Quindi qualcuno scriva qualcosa Per farmi capire che ci siete Quindi Carlo chiede Questa è una domanda che è stata fatta l'altra volta La quale non avevo visto nei commenti Allora Quando non si ha la lingua in comune con la ragazza Cosa? Ah ok Questa è la domanda Cosa fare quando non si ha in comune la lingua con la ragazza? L'inglese è internazionale Ma se tipo mi trovo all'estero Allora Carlo Fondamentalmente è uguale Quindi puoi usare l'inglese Non c'è bisogno che ti impari Che impari la sua lingua Se impari magari qualche parola nella sua lingua Questo ti può essere utile Per esempio Io sono andato in Polonia di recente Comunque almeno imparare come si dice ciao In polacco È utile saperlo Impararsi magari qualche parola basica nella lingua di lei Può essere utile se magari vai all'estero Fondamentalmente però non c'è problema Cioè se sai l'inglese puoi interagire praticamente ovunque Poi sì Alcune ragazze magari non parleranno inglese Anche se vai magari all'estero Se magari vai in paesi Cioè ok l'inglese Se vai in America Chiaramente lì è la lingua del paese Carlo Sto rispondendo alla tua domanda Ti sei collegato giusto in tempo Era la domanda che Hai fatto l'altra volta nei commenti Quella lì Sul come fare all'estero In inglese eccetera Quindi Fondamentalmente non c'è nessun problema Quindi se vai all'estero Dove la lingua di quel posto è l'inglese Ok non c'è nessun problema In caso invece magari in un altro paese Non so la Polonia La Russia Tutti gli altri paesi dove la lingua Madre non è l'inglese Allora Anche lì non si pone il problema Perché comunque Molte ragazze parlano comunque l'inglese Ok Se non lo parlano l'inglese Non si può fare niente Cioè in realtà sì Puoi fare una cosa Che è utilizzare Google Translate Delle volte lo puoi fare Per esempio Quando approcci una ragazza E vedi che ti risponde Molto positivamente Già da subito Anche senza che Sta capendo niente Allora puoi utilizzare subito Google Translate Quindi io ho fatto anche Degli appuntamenti così Solo con Google Translate Ho portato ragazzi a casa Anche solo con Google Translate C'è anche il report Nel gruppo Facebook Per chi è nel gruppo Facebook Perché in questi casi Si gioca molto Sulla comunicazione non verbale Quindi perché L'attrazione fondamentalmente Si crea per la maggior parte Tramite fattori non verbali Quindi va benissimo Anche se parlate solo Con Google Translate Ok Quindi sono cose Puoi fare Non è una cosa Che capita spessissimo Però così Gabriele Gabriele chiede Gabriele è uno studente Che ha pensato al corso Di due giorni E chiede Al corso mi ha detto Che ero troppo logico Nella conversazione Mi hai consigliato Di vedere delle serie tv comiche Per ovviare al problema Questo però mi porta A non avere più Una logica Per seguire l'università Quindi come faccio A essere logico Nel contesto università Quindi senza che trascuri Senza che la trascuri E meno logico Quando esco a fare game E come faccio a capire Se in una conversazione Sono troppo logico O illogico Allora Gabriele Fondamentalmente Devi capire L'hai presa un po' troppo Alla lettera forse La cosa dell'essere Non logico Che sì Devi non essere logico Quando sei Quando stai interagendo Con una ragazza Ma poi ci sono altre situazioni Invece che richiedono L'essere logico Per esempio Appunto I tuoi studi universitari Quindi Ogni situazione Richiede Una Una diversa personalità Quindi Se nel contesto universitario Devi essere logico Lì devi essere logico Se nel contesto con le ragazze Devi essere illogico Per appunto Essere un po' più sciolto Nella conversazione Magari fare qualche battuta in più Devi sviluppare di più quel lato Quindi Non è che adesso Devi sempre essere Sciolto Illogico In qualsiasi contesto Ci sono dei contesti Dove è va bene esserlo Ci sono dei contesti In cui non va bene esserlo Quindi L'abilità Di essere La persona migliore A seconda della situazione Poi ti fa ottenere Più risultati Ti fa ottenere risultati In tutti i vari ambiti di vita Per esempio Non so Ti faccio capire bene La cosa Mettiamo che tu sei una persona Molto diretta Che dice le cose in faccia Perché io la penso così E gli altri sono stupidi È un esempio Mettiamo che tu sei una persona Che dice le cose come stanno E magari in un contesto Magari con un tuo amico Che magari è appena stato lasciato Da una ragazza Dirgli effettivamente Magari le cose come stanno Che magari ha commesso qualche errore Con la sua ex fidanzata Può essere utile Perché così almeno impara Non rifare l'errore La prossima volta Quindi in questo caso L'essere diretto È buono È positivo È produttivo Se però sei nel contesto Sei in un contesto lavorativo Magari con il tuo capo Dirgli quello che pensi di lui Senza farti problemi Essere diretto In quel caso non va bene Perché se gli dici quello che pensi Probabilmente sei licenziato Quindi a seconda di qual è la situazione Devi essere la persona migliore Per quella situazione Per ottenere il risultato Migliore da quella situazione Ok? Ciao Michele Quindi Quello che puoi fare Per Per diciamo Entrare in più In questo stato divertito E meno logico Quando sei lì Sul campo Che stai iniziando ad approcciare Puoi prenderti una mezz'ora di tempo O magari dipende Da quanto ci metti Per riscaldarti Quindi se magari passi tutto il giorno A studiare Oppure a lavorare Magari il tuo studio Il tuo lavoro È molto logico Molto razionale Se ti prende tante ore al giorno Sei ore al giorno Otto ore al giorno È ovvio che ci vorrà Un po' di tempo Per diciamo Entrare nella modalità Più socievole E più sciolta E meno logica Quindi Prenditi magari Trenta minuti di tempo Per Magari socializzare un po' Con Dedica i primi approcci A entrare Di più in questo stato divertito Quindi nel corso Ti ho spiegato un po' Come fare Appunto per entrare In questo stato divertito Premi i tuoi bottoni interni Ti ricordi Ti ho spiegato Sta roba qua Quindi Cerchi di trovare Quali sono le cose Che fai O che dici Che ti mettono di più In questo stato divertito E applicale Quindi Premiti proprio La prima mezz'ora O quello che ti serve Per entrare di più In questo stato divertito E più sciolto Ok Perché se Tutto il giorno Lo dedichi appunto A una cosa molto logica Poi Ti serve un po' di tempo Per uscire da questa modalità logica E entrare nella modalità Più socievole Quindi Come ti ho detto Devi allenare di più I vari lati Quindi non è che Adesso se sei sempre Diciamo logico Sul lavoro O sullo studio Allora non puoi essere Anche sciolto Su un altro ambito Quindi è semplicemente Una questione di pratica Non nasciamo solo logici Solo introverso Solo estroverso No Abbiamo tutti i lati dentro Quindi è semplicemente Una questione di quanto lavori Sugli altri lati Se io ti dicessi Non so Ti do un milione di euro Per farti una settimana Da Diciamo In cui devi essere Super divertente Super sciolto Molto illogico Eccetera Prenderesti in considerazione Questa sfida? La risposta è Sì Perché sai che Puoi anche essere Illogico Sciolto Divertente Quindi Semplicemente è questione Di sviluppare Anche quell'altro lato Ok? Quindi svilupparlo Con la pratica Poi Com'è che capisci Quando è che Come faccio a capire Se in una conversazione Sono troppo logico O illogico Lo capisci Perché ti stai divertendo Nella conversazione E lo capisci anche Perché quando tu ti diverti Poi si diverte anche La ragazza che è di fronte Quindi Usa questo come criterio Se alla fine di un'interazione Non ti sei divertito Molto probabilmente Eri in uno stato Troppo logico Se invece ti sei divertito Molto probabilmente Sei divertita anche la ragazza E di conseguenza Sai che stai andando bene Per chi ha domande Può scrivere Nei commenti Tanto Non ce ne sono tantissime oggi Credo Poi Da adesso in poi Sono tutte domande In anonimato Quindi Anonimo Chiede Ciao Luca Come se la cavano I tuoi studenti Finito il corso Continuano con costanza A migliorarsi Allora Fondamentalmente Non lo posso sapere Nello specifico Non Non diciamo Non ho la possibilità Di entrare Nelle loro vite private Uno ad uno Quindi non lo posso sapere Per ognuno Non posso sapere Cosa fanno dopo Però Fondamentalmente Se vai su Adesso non so Chi sia Chi ha fatto questa domanda Però Potete andare a vedere Sul sito www.approcciola.it Andate dove c'è la sezione risultati Cliccate su Le varie persone Che hanno fatti i corsi E vedrete che Alcuni Hanno i risultati Cioè hanno Le testimonianze Anche post corso Quindi dopo il corso Quindi Ci sono persone Che continuano Che continuano a migliorarsi Poi qualcuno magari Ottiene i risultati E non me lo dice Quindi Non posso fondamentalmente Sapere Tutti cosa fanno Quindi Questo qua un po' E poi comunque Non ho il controllo Su quello che fanno loro Cioè io posso trasferire Il più possibile La mentalità Del continuare Del migliorarsi Dell'imparare sempre Però poi fondamentalmente Cosa fa una persona Poi nella sua vita privata Quelli Non posso sapere Sono affari della persona E poi fondamentalmente In qualsiasi ambito E quindi non solo Qua nell'ambito Delle ragazze Ciao Carlo Carlo Se hai domande Fai pure Tanto Oggi Non so Ce ne sono Forse una decina di domande Però secondo me Le facciamo abbastanza veloci Fondamentalmente In qualsiasi ambito In realtà La maggior parte Le persone Poi non fanno niente La maggior parte Le persone Poi non applicano Basti pensare Per esempio All'ambito Alla palestra Quanti si iscrivono In palestra E quanti poi Effettivamente ci vanno E quanti poi Di quelli che ci vanno Perdono peso Come vorrebbero Oppure magari Migliorano i muscoli Come vorrebbero Una percentuale Una percentuale Molto piccola Perché Poi la maggior parte Le persone Non ci va Poi la maggior parte Le persone Non applica Poi la maggior parte Le persone A casa Fa quello che vuole Magari non mangia Correttamente Oppure non si allenano Con la frequenza Giusta Ma fondamentalmente Chi segue Le informazioni Le applica Alla lettera Chiaramente Devono essere giuste Le informazioni Le informazioni Che prendete da me Sono giuste Perché producono risultati Non perché Lo dico io E i risultati Ricordiamoci che non sono Il numero Il bacio Il bacio è già un buon risultato Ma il risultato è Andare a letto con la ragazza Ok Quindi ricordiamoci Questo piccolo dettaglio Quindi fondamentalmente Chi segue Chi applica Ottiene risultati Poi però Non ho il controllo io Su chi continua Ok Questo è un po' il discorso Ma si applica In qualsiasi ambito di vita Mi ricordo Ero andato a un corso Sull'educazione finanziaria In Italia Facilmente intuibile Da chi è E praticamente Uno sacco di gente Gli chiede A questo formatore Quanti di quelli Che fanno i suoi corsi Poi diventano ricchi E lui dice sempre Il cento per cento Di quelli Che applicano Quello che insegniamo Perché Tutti chiaramente Poi vanno al corso Fanno il corso Però poi una piccola percentuale In realtà Ottiene il risultato Ma quella piccola percentuale Guarda caso Sono le persone Che hanno applicato Gli insegnamenti Ciao Ivan Poi Altra domanda Di Anonimo Allora Ma quando si dice Di dover essere creativo Con le ragazze Per poter emergere Che cosa si intende? Allora Fondamentalmente Si intende per emergere Dalla Diciamo Massa Dei pecoroni La maggior parte Dei persone Approccia la ragazza Nella stessa maniera Diciamo In maniera Noiosa In maniera scontata Ciao Buonasera Chi ha domande Può scriverle Nei commenti Tanto come vi ho detto Vi dico quante ce ne sono Di domande Allora adesso Siamo arrivati a Questa domanda qua Dopo ce ne Allora Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Vabbè Ce ne sono ancora Sette domande Quindi Diciamo che ce ne sono Abbastanza Però Per chi ha domande Le può scrivere Quindi Torniamo alla domanda Che l'ho persa Allora Ma quando si dice Di essere creativo Ok Quindi Fondamentalmente Perché la maggior parte Dei persone Approccia le ragazze In maniera noiosa In maniera scontata Tutti nello stesso modo Quindi Rilego un attimo La domanda Perché assicurami Non l'ha capita Quindi Dovrei essere creativo Con le ragazze Per poter emergere Allora Fondamentalmente Non è Tanto L'essere creativo O non creativo Sicuramente Quella è una componente Importante Però è più che altro L'instaurare una comunicazione Che sia uomo o donna E non Una comunicazione platonica Quindi non è tanto Quello Sicuramente La creatività Aiuta La creatività La puoi sviluppare In tanti modi Un esercizio Che faccio fare Spesso Per non dire sempre Durante i corsi È quello di Prendersi una parola a caso E poi Cercare di parlarci su Di creare un monologo Un monologo Per un minuto Per cinque minuti Per dieci minuti Quindi dipende poi Dalle varie situazioni Dipende Dipende da varie cose Ciao Raimondo Per allenarsi appunto Alla creatività Cercando proprio Di non censurarsi E non filtrarsi Facendo questo esercizio Tante volte Non tante volte In una giornata Tante volte Diciamo a livello Di Temporalità Quindi magari Tutti i giorni Per tre mesi Poi lì Effettivamente si vede Molto la differenza A livello di creatività Ciao Yuri Quindi Ho perso la domanda Quindi chi si è collegato Adesso potete scrivere domande Quindi come dicevo Non è tanto Non è tanto Come si dice La creatività E più che altro L'instaurare Una comunicazione Che sia uomo Donna E non platonica Poi su questo argomento Dovrò fare qualcosa Perché è veramente Un'epidemia Adesso c'è stato Il corso di due giorni Giovedì e venerdì E veramente noto Che la difficoltà È sempre sempre quella Poi sì Si può Poi magari in chiusura Parliamo anche di come è andato Questo corso di due giorni Però fondamentalmente È sempre quella La difficoltà Ovvero il creare Un'interazione Che sia uomo Donna E non un'interazione Un'interazione Platonica Platonica Mi sto un po' Incasinando con le parole Un'interazione Non platonica Quindi creare un po' Il flirt Ok Quindi con questo qua Un po' il discorso Non è tanto la creatività Perché sì Può essere anche divertente Però può essere divertente Come magari è divertente Un amico Quindi Bisogna instaurare Una comunicazione Sia uomo Donna Non tanto Creatività Essere divertente Sì Però Più importante Interazione Comunicazione Uomo Donna Ok Poi 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 Altra domanda Di Anonimo Buonasera Luca Quando hai iniziato Il tuo percorso Nella seduzione La tua autostima Era già bella Potente come oggi Oppure Era ancora acerba Allora Assolutamente Ovviamente Nessuno parte Con un'autostima alta Ma neanche Non ci nasci Con un'autostima alta È comunque una cosa Che sviluppi Cioè magari Anche chi vedi Non so Che magari In giovane età Magari anche Non so 10 anni 12 anni Così Magari persone Vedi Ragazzini anche Molto sicuri Con un'autostima Molto solida Che poi Bisogna andare a vedere Se effettivamente è così Non è che Ci sono nati così È che l'hanno sviluppata Magari nei primi anni Di età Quindi Sicuramente L'autostima La costruisci con il tempo L'autostima La costruisci Lo dico spesso In misura Di quante azioni giuste Fai In relazione Ai tuoi obiettivi In misura Anche di quanti Momenti difficili Passi E poi Riesci a ottenere Il risultato Per esempio Io mi ricordo Che La prima Grossa sfida Penso che Di aver avuto In passato Era il perdere peso Io fino a tipo 14-15 anni Pesavo tipo 20 chili in più Rispetto a poi Quelli che ho perso Tipo poi In un anno e mezzo Ho perso tipo 20 chili E quella è stata comunque Già una grossa sfida Perché appunto Venendo Da una famiglia Del sud A tavola Ti rompevano il cazzo Perché non mangi Perché non mangi Perché non voglio essere obeso Come tutti quelli che sono a tavola Quindi Già passando Questa difficoltà Ho durato un anno e mezzo Per riuscire a perdere Quel cazzo di 20 chili E poi essere in forma E poi li ho mantenuti Quindi Già questo sicuramente È stato un Un passo buono Nel costruire l'autostima Perché Avevo deciso di mangiare In un certo modo Che dovevo rispettare Nonostante in casa Rompiamo tutti il cazzo Di andare ad allenarmi Quindi a correre Io facevo atletica Di andare Ad allenarmi Tot volte a settimana Anche se pioveva Anche con il freddo Anche con 40 gradi Fa niente L'obiettivo è stato deciso Quindi bisogna arrivare A quell'obiettivo Quindi passando Attraverso le difficoltà E raggiungendo Anche l'obiettivo Poi l'autostima cresce Quindi Quella è stato Il primo tassello Nel costruire l'autostima Infatti mi ricordo Che comunque Già alle scuole superiori Diciamo L'autostima Era abbastanza buona Diciamo Lì ho imparato Più che altro Il discorso Del non mollare mai Del passare attraverso Le difficoltà Del perseverare Sono tutte cose Che poi Ti aiutano A costruire l'autostima E poi se le coltivi Le porti avanti Poi aiutano Sempre di più A incrementarla Ciao Marco Con lo sport Anche come dicevo Quindi il fatto Di andare Ad allenarsi Quindi è tutto Per far capire Che non è che Sono nato Come sono oggi È stato tutto Un percorso Di crescita Quindi Con lo sport Sicuramente Perché l'autostima La puoi sviluppare Anche tramite Altri ambiti di vita E poi la riporti Quando magari Interagisci con una ragazza Quindi poi L'autostima Si riflette Anche in tutti Gli altri ambiti Di vita Quindi la puoi lavorare Sull'ambito Che più preferisci Però poi Si riflette anche Negli altri ambiti Ok Quindi Con lo sport È stato anche Un altro tassello Quindi imparare Magari quando sei stanco Ad allenarti comunque Quando sei stanco A non mollare Nella corsa Quindi Tutte varie cose Poi come dicevo Superando le difficoltà Quindi che possono essere Più svariate Sui vari ambiti di vita Non so E poi anche L'ottenendo risultati Fondamentalmente Quindi L'autostima Poi si costruisce Anche in misura Di quanti risultati Ottieni In su i vari ambiti Di vita Quindi è stato comunque Una costruzione E comunque È sempre lavoro in corso Quindi Non è mai troppo Solida L'autostima Quindi E comunque Bisogna stare attenti Anche a non Non farla deteriorare Perché è molto facile Finire poi Nella tangente Verso il basso Appena diciamo Inizi ad assecondare Te stesso Inizi a dire No non lo faccio Ma si rimandiamo E non c'ho voglia E poi Poco per volta Il danno Si crea Molto In realtà Neanche poco per volta Poco per volta all'inizio Ma poi il declino In realtà è molto veloce Quindi Qua per rispondere La domanda No Non è che Fino a qualche anno fa Come dicevi Tenne la domanda L'autostima Si Era acerba Quindi È una costruzione Nel corso degli anni Ciao Alessandro Per chi ha domande Potete scrivere Secondo me Tutti quelli che sono collegati Sono quelli che hanno fatto Le domande in anonimato E quindi non volete scrivere niente Per non far vedere chi siete Allora Domanda Sempre di anonimo Sono tutti anonimi Sbaglio In questo periodo È scoppiata una guerra I contenuti online Facebook Instagram YouTube Nel mondo Della seduzione italiana Si L'ho notato Anch'io Però posso dire Di Non sono stato il primo Diciamo a partire Perché comunque C'era già un'altra squadra Di seduzione Che faceva video Da tutti i giorni Praticamente da tre anni Quindi Non sono stato sicuramente Il primo A iniziare a postare Tutti i giorni Però Diciamo che sono stato Il primo di recente Perché appunto Io ho iniziato a postare video Tutti i giorni Praticamente Quattro mesi fa Circa E da lì Ho iniziato a notare Anch'io Che di risposta Poi anche altre scuole Hanno iniziato a postare video Chi Tutti i giorni Che in realtà Non è vero Comunque Nessuno posta Tutti i giorni A parte me E a parte Un'altra scuola Di seduzione In Italia Ho visto Persone Che hanno iniziato A postare Tutti i giorni Per un periodo Più o meno breve E poi tutti comunque Tornavano Alla frequenza normale Chi comunque Ha iniziato a pubblicare Di più Video Diciamo Dei frammenti Magari di alcuni Corsi al vivo Però fondamentalmente Non dico che ho iniziato io Però Ho notato Anch'io questa cosa qua Da quando ho iniziato A postare video Tutti i giorni Anch'io Dopo ho iniziato a vedere Che altre scuole Ho iniziato a postare Video Non tutti i giorni Però Con sicuramente Una frequenza più alta Poi Conosciamo più o meno tutti Diciamo Chi è che Che posta contenuti Tutti i giorni Anzi no Posso dire no Ce ne sono Altre due Di scuole A parte me Mi sono ricordato adesso Ce ne sono altre due Di scuole Che postano Prendete tutti i giorni Se non sbaglio Ce n'è una Che posta due volte al giorno Video Quindi Però si Di recente Ho visto Anch'io questo cambiamento Però Pazienza Allora Anonimo Chiede Dopo quante uscite Una ragazza mostra Durante un rapporto intimo La sua maialaggine È legato Alla fiducia Che riusciamo Ad instaurare Si Quello che Io ti parlo Della mia esperienza Quindi Su questo Diciamo Non posso dirti Di avere la verità In tasca Però ti posso portare La mia esperienza E si Dipende dalla fiducia Dipende dalla fiducia Poi anche il discorso Del venire a casa con te Quindi L'andare a casa con una ragazza Il fatto che non ti faccia resistenza Poi Nell'andare a casa O quando siete nel letto Dipende dalla fiducia Quindi di conseguenza Anche il quanto Diciamo Mostra il suo lato sessuale Poi a letto Più o meno spinto Anche quello Penso che dipenda molto Dalla fiducia Che sei riuscito A creare Ad instaurare Nella mia esperienza Dopo quanto tempo La ragazza mostra Tutta la sua Come la chiamete Maialagine Nella mia esperienza Massimo Entro la seconda scopata Questa è la mia esperienza Poi Non Come vi ho detto È solo la mia esperienza Quindi qua Non dico Di avere la verità In tasca Però Ti posso riportare Quello che è La mia esperienza Poi dipende anche Un po' Dalle circostanze Se magari Mi ricordo Che ho una ragazza Che l'avevo portata A casa mia E il letto Diciamo È una piazza e mezza E quindi comunque Abbiamo fatto cose Però Era diverso Quando poi Siamo andati Il giorno dopo Invece nel suo hotel Che c'era il letto grosso Era un hotel Quattro stelle Tutti i comfort Un sacco di roba Quindi il letto Era grosso Più confortevole E quindi là È stato molto più Diciamo L'è stata molto più spinta Quindi poi dipende Anche un po' Da quali sono le circostanze Un conto è se siete In macchina Un conto è se siete In un letto Matrimoniale Quindi dove c'è Molto spazio Però sì Comunque dipende Anche molto Dalla fiducia Poi Domanda di anonimo Come ho già detto Tutte domande in anonimato Dopo quanto tempo È bene troncare Una semplice frequentazione Se si vuole proseguire Nella seduzione Soprattutto Come farlo In maniera decisa Senza ripensamenti Allora Quello che consiglio io È di Non aspettare Di Diciamo Troncare questa frequentazione Prima di Approciare nuove ragazze Quindi se è una semplice Frequentazione Ti consiglio di Non fermarti Alla ragazza La quale ti stai frequentando E Poi quando Hai finito Diciamo con questa qua Iniziare ad approcciare Altre ragazze Io ti consiglio Di non fermarti Proprio Quindi se sei Soprattutto se sei agli inizi Io mi ricordo Quando ho iniziato Sono iniziato a uscire Con le prime ragazze Cioè non è che Allora Siccome uscivo Con le prime ragazze Smettevo di approcciare le altre Ok Quindi Ti consiglio di Non aspettare Di finire Con magari una ragazza La quale ti stai frequentando Prima di approcciare Altre ragazze Soprattutto se È una semplice frequentazione Poi non so cosa intendi Per semplice frequentazione Soprattutto come farlo In maniera decisa Senza ripensamenti Pensando A quando Avrai abilità più solide E di conseguenza Potrai ottenere ragazze Migliori E di più alto livello E di più alta qualità Quindi Quando sei lì Che devi pensare Minchia Devo lasciare questa qua Che magari Io mi ricordo Quando Tipo La prima ragazza Con cui si è andata a letto Da approcci Di giorno Che praticamente poi È stata una tromba mica Per un anno E praticamente Però dopo un po' È iniziata a diventare Diciamo deleteria Questa cosa Lei era molto Non salutare Quindi Deve volte poi magari Se magari aveva Non so Cioè Molto Non salutare Non tanto l'euro di salute Proprio a livello di mentalità Era una persona Quindi Molto negativa Posso dire questo qua Ed era diventata È stato un po' Un problema Però comunque Mi condizionava molto A livello di testa Di mentalità E però comunque Era Cioè Era comodo Avere una tromba mica Ok Però fondamentalmente Dopo un po' Ho detto basta Perché Se no Innanzitutto Ti precludi Diciamo Hai meno motivazione Per approcciare nuove ragazze E per migliorarti Perché ti dici tanto La scopata ce l'ho assicurata Con questa qua Quindi Il mio consiglio è di Quando magari vuoi lasciare una Per farlo in maniera decisa Senza ripensamenti Come dici te nella domanda Diciamo Pensa più che altro Al Quando poi avrai abilità più sviluppate E potrai ottenere ragazze Di più alta qualità Ok Quindi Tieni bene a mente Qual è l'obiettivo Quindi Ragazze di più alta qualità E Questo ti dovrebbe dare più serenità Nel lasciare Una ragazza Con la quale magari Ti stai frequentando adesso Della quale magari Non sei super soddisfatto Che sai che in realtà Ne vorresti approcciare nuove Per andare avanti Perché magari sei agli inizi Quindi Volevo dire un'altra cosa Ma mi sta sfuggendo in mente Ecco Sì forse mi è tornato in mente Pensa appunto A quando avrai le abilità più sviluppate Perché nel momento in cui Le abilità sono molto solide Molto sviluppate Tu comunque hai la consapevolezza Che Puoi uscire in qualsiasi momento di casa E puoi trovartene una Che è la consapevolezza Che io ho attualmente Ok Quindi E tutte le volte non la riprova Quindi adesso in realtà Ho molto poco tempo Ultimamente per uscire ad approcciare Però tutte le volte che vado Poi finisce sempre Che riesco a Magari portarmi a casa Contatti solidi Magari per esempio Questo mese Sono tipo Ho fatto tipo 10 approcci Una roba scandalosa Siamo al 28 del mese Ho fatto 10 approcci in totale Perché veramente Non ho avuto tempo Questo mese E però ho fatto due appuntamenti Da questi 10 approcci Ok Quindi Comunque una percentuale di conversione Molto alta Adesso Però Chiaramente in passato Era leggermente più complicato Avere due appuntamenti Mi ricordo che agli inizi Appunto viaggiavo su una media Di 200 approcci al mese E facevo due appuntamenti Quindi avevo un appuntamento Ogni 100 approcci Adesso Questo mese per esempio È uno Un appuntamento Ogni 5 approcci Ok Quindi nel momento in cui Hai questa Hai le abilità più solide Diciamo Lasci con più serenità La ragazza con la quale Ti stai solo frequentando Una ragazza che magari Non so Vorrei farti esempi Però non vorrei fare esempi Inappropriati Perché mi stanno venendo in mente Alcuni esempi Però Potrebbero essere inappropriati Quindi non li faccio Ciao Matteo Chi ha domande scriva Che non mi sa che Non ne sono rimaste molte Allora Ce ne sono ancora Una E due Quindi ci sono ancora due domande Se no Oggi la chiudiamo prima Che poi Dico sempre che la chiudiamo prima Poi finisce sempre che Allunghiamo il brodo In qualche modo Allora Anonimo chiede Buonasera Luca Cosa consiglieresti di fare A un ragazzo vergine Al mondo della seduzione Età 25-30 anni Oltre ovviamente A muovere il culo Purtroppo Questo viene visto Come un handicap E può svilire davanti A una ragazza Allora Non ho capito Se sei vergine Al mondo della seduzione O se sei vergine Nel senso che Non hai avuto esperienze sessuali Non ho capito Questa cosa qua Età 25-30 anni Cosa vuol dire? Che hai l'età fra 25-30 anni? Vabbè Ok Quindi Cosa consiglieresti di fare A un ragazzo vergine Al mondo della seduzione Oltre ovviamente A muovere il culo Già il fatto che Perché mi scrivi Oltre a Ovviamente muovere il culo Perché Sai già la risposta La risposta è Muovere il culo Perché Se no Questo qua deriva Dal Non voler abbracciare Il fatto che E sarà faticoso Impegnativo E difficile Quindi Come posso ottenere il risultato Di iniziare il mondo Della seduzione Iniziare a ottenere risultati Senza muovere il culo Cosa posso fare di altro? Niente Iniziare a muovere il culo Quindi Secondo me Il fatto che mi abbia scritto Oltre ovviamente A muovere il culo Proprio deriva dal fatto Che non vuoi abbracciare Diciamo La difficoltà Il voler metterci impegno Che è normalissimo Il 95% Della popolazione mondiale Diciamo Asseconda la propria pigrizia Questa è una teoria Che Ho tirato fuori Un po' di tempo fa Che A mio parere Il 100% Della popolazione mondiale È pigra di natura Poi C'è un 95% Di persone Che Assecondano La propria pigrizia E di conseguenza Non fanno l'azione Non si mettono L'impegno E poi c'è un 5% Di persone Che è comunque pigra Di natura Però Non asseconda La propria pigrizia E di conseguenza Si mette in azione Fa le cose Anche se non ne ha voglia E poi ottieni risultati Perché i risultati Poi sono oltre Il metterci impegno Oltre Il metterci fatica Eccetera Quindi Anche se non si ha voglia Quindi Cosa fare Oltre a muovere il culo Muovere il culo Abbracciare questa mentalità Del fatto che Sarà comunque difficile Dovrai metterci impegno E in questo modo Vai più sereno Perché nel momento In cui Ti metti in pace con te stesso Che sarà difficile Sarà impegnativo Quando poi Riscontri difficoltà Riscontri il fatto Dei metterci impegno Dici Tutto ok Esattamente come deve essere Invece Le persone mediocre Si approcciano Con qualsiasi cosa di nuovo Per esempio Rimaniamo in tema Ragazze Iniziano ad approcciare Per strada E Iniziano a vedere Magari Lo se lo fanno da soli Iniziano a non ottenere risultati E Mollano Perché Dicono Eh minchia Non mi aspettavo Fosse difficile Non mi aspettavo Che dovessi uscire Tante volte Per imparare Ti aspettavi sbagliato Ti aspettavi sbagliato Anche Poi magari ne parliamo Una prossima volta Perché magari Metto giù un discorso Un po' più sensato Con dei punti Per esempio Uno dei ragazzi Che c'è stato adesso Al corso di due giorni Se guarderai questo video Ciao Ivan Se guarderai questo video Indifferito O se sei live Che appunto Mi diceva Durante il corso Che comunque Non Diciamo Gli pesava Un po' il fatto Che Dovesse prendere Anche tanti rifiuti Prima di ottenere Un risultato Chiaramente poi Più si va avanti Più le abilità Diventano solide Più questa cosa Diciamo diminuisce Durante il corso Ho fatto comunque Due approcci Di dimostrazione Ai due studenti Che c'erano Ho fatto due approcci A due ragazze diverse E sono andati Tutti e due bene Fondamentalmente Una Ho preso il numero E Anche se comunque Era libera Quindi potevo andare In instant date Però ho detto Vabbè Non vado in instant date Perché se no Poi i loro due Che cazzo fanno Quindi han pagato Quindi rimango con i loro due Quindi ho preso il numero E sono tornato a loro Però fondamentalmente La ragazza era libera E potevo andare in instant date Poi dopo Verso la fine del secondo giorno Ho approcciato un'altra ragazza Mentre loro Erano andati a fare un attimo Una pausa in bagno Io ho approcciato una ragazza E Sono andato in instant date Poi sono rimasto Dieci minuti con lei Perché chiaramente Poi sono dovuto Tornare dagli studenti Però fondamentalmente Due ragazze approcciate Due instant date La seconda poi Era anche chiudibile Nel senso Era libera Era strattratta Potevo scoparla il giorno stesso Invece Sono tornato dagli studenti E che cazzo Poi magari Ne parliamo dopo Di sta cosa qua Che Non so se deve raccontare Poi l'ho rivista Il giorno dopo Gabriele e Ivan Se siete collegati Poi l'ho rivista Il giorno dopo La ragazza Però Era una storia strana Poi Magari ne parlo dopo Quindi Dove eravamo Stavamo rispondendo La domanda lì Sul fatto che sarà difficile Quindi Capire anche Che gli altri Che se la prendono comoda Non stanno andando Da nessuna parte Quindi Questo fatto Ti serve più che altro Per abbracciare Il fatto che Sia difficile Che tu debba Metterci impegno Capire che gli altri Che se la prendono comoda Ma sì Faccio quello che mi sento Vado ad approcciare Solo quando me la sento Ma sì Frate Tu prendetela Con comodo Così Non funziona Gli altri Non stanno andando Da nessuna parte Capire questa cosa Abbracciare questa Cosa Che è un fatto Tutte le persone Se la prendono comoda Ma sì Esco quando voglia Quando me la sento Eccetera Se sono agli inizi Che non hanno abilità Ancora solide È una cosa che non si può fare È una cosa che posso fare Magari io adesso E comunque Su dieci approcci Ancora non è che Su dieci approcci Ho fatto questo mese Non è che ho concluso Ancora molto Poi in realtà sì Però Lasciamo stare Però fondamentalmente È una cosa che magari Posso fare io adesso Gabriele Dove eri? Ti sei collegato? Dopo ho già risposto Alla tua domanda Quindi poi Riguardati il live La tua domanda L'ho risposta All'inizio Era la seconda domanda Alla quale ho risposto Quindi poi Riguardati il live Quindi Il capire che gli altri Non stanno andando Da nessuna parte Ti aiuta poi Ad abbracciare questa cosa Del fatto che sarà difficile Perché se tu capisci Che gli altri Che se la prendono comodo Vanno piano Chi va piano Va sano Va lontano No Chi va piano Va sano Ma non va da nessuna parte Ok Questa dovrei scriverla Chi va piano Va sano Ma non va da nessuna parte Questa poi dopo me la scrivo Poi la metto Poi me la scrivo Questa è bella Quindi Capire che gli altri Che vanno piano Non stanno andando Da nessuna parte Ti aiuta Ad abbracciare la complessità Abbracciare la difficoltà Perché sai Che se anche tu Fai con calma E non c'è voglia Di muovere il culo Eccetera Anche tu non andrai Da nessuna parte A livello di risultati Quindi questa qua È una cosa Che poi ti può aiutare Ad abbracciare il fatto Che sarà faticoso E impegnativo Poi Cos'altro Ti consiglio anche Di non prendere Informazioni sbagliate Perché poi Le informazioni sbagliate Ti fanno perdere Un sacco di tempo Quindi Di capire Ti do adesso Un metodo di paragone Per capire dove si prendono Le informazioni giuste Quindi non devi prendere Necessariamente a me Quindi se trovi persone Che rispettano i criteri Che ti sto a perdere adesso Perfetto Le persone Che spiegano queste cose Hanno risultati Di studenti Provati E dimostrati I risultati Ricordiamo che non è Il bacio L'istandate L'appuntamento Sì Quelli sono già comunque Di risultati buoni Sicuramente il numero Non è un risultato Quindi questo Toglietevelo proprio Dalla testa Il numero non è un risultato Quindi queste persone Che insegnano Hanno risultati Di studenti Dimostrati Per risultati si intende Studenti che riescono A andare a letto Con ragazze Che si è portato a casa E ci fanno sesso Quindi se queste persone Che insegnano Hanno questi risultati Negli studenti Sai che le informazioni Sono giuste Ok Quindi usa questo criterio Qui Perché un conto è L'istruttore Quindi la persona Che insegna Chi ha risultati Sì Quello Ok Però Non è diciamo Il criterio più attendibile Perché se poi Una persona ha risultati Ma non è capace Di insegnartelo Perché magari Lui dà le cose per scontato Le applica in maniera automatica Non va bene comunque Deve essere anche in grado Di spiegartelo Di trasferirti Gli insegnamenti Ok Quindi questo è il criterio Quindi sicuramente Non prendere le informazioni Sbagliate Perché poi le informazioni Sbagliate Ti fanno perdere Un sacco di tempo Ok Perché poi Le applichi e non funzionano Ok Quindi devi applicarle Applicarle e vedere Che non funzionano Ti consiglio di fare un corso Perché È inutile Ci prendiamo per il culo Io agli inizi Ho fatto Un corso di due giorni Dopo sette mesi Dopo sette mesi Che mi massacravo Di teoria Perché fondamentalmente Avevo paura Di iniziare a uscire Ad approcciare Da solo O quanto meno Con altre persone Avevo paura Di iniziare Ad approcciare dal vivo Quindi ho detto Pago E almeno mi forzo Ad agire Ok Quindi questa è un'altra cosa Ti consiglio di fare E poi una volta che hai iniziato Ti consiglio di fare Uno sprint iniziale Quindi una volta che hai iniziato Che hai fatto questo sforzo Ti consiglio di fare Uno sprint iniziale Che può essere Più o meno lungo Può essere Di qualche mese Può essere Di un anno Poi vabbè In un anno Se stai facendo Pratica Con tanta frequenza Costanza Hai le informazioni giuste È impossibile Che non hai risultati Diciamo costanti Ok Quindi Uno sprint iniziale Perché Perché Andando Tornando al discorso di prima Chi va piano Va sano e va lontano Me la prendo comoda Fado solo quando voglia Faccio solo quello che mi sento Queste sono cose che non funzionano Quindi Fare uno sprint iniziale Che ti permette poi Di avere i risultati E una volta che hai i risultati Che hai i risultati consolidati Poi dopo Puoi rallentare la frequenza Andare un po' più Quando te la senti E comunque Riuscirei a mantenere i risultati Ma all'inizio È necessario Uno sprint iniziale Vi faccio L'esempio Poi per chi Ha già fatto i corsi All'audio corso Per esempio Gabriele Nella parte in cui Spiego con che frequenza Uscire Lo trovi spiegato lì Spiego il fatto che io Il primo anno Sono uscito tutti i giorni A fare approcci per strada E guarda caso Ho iniziato a ottenere risultati Molto buoni Negli approcci per strada In discoteca Andavo una volta a settimana Guarda caso In quell'anno Non sono diventato bravo Nella parte della discoteca Però uno dice Che cazzo Andavo comunque Un'altra settimana Andavo comunque In maniera frequente Cioè frequente In maniera costante E che cazzo Comunque Dovrei avere lo stesso Risultati No Perché Bisogna comunque Metterci anche in frequenza Non basta la costanza Quindi E anche Anche altre persone Che conosco Che sono molto brave Nella parte della discoteca Che però Nella parte di approcci per strada Di giorno Non sono Non se la cavano Ok Perché Perché L'hanno sempre fatto Un po' Così di sfuggita Quindi Non basta Farlo Costantemente Bisogna anche farlo Frequentemente Quindi per un periodo iniziale Che può essere Più o meno lungo Dipende Da Dipende da varie cose Faremo uno sprint iniziale Per consolidare le abilità Una volta che hai Le abilità consolidate Anche lì Non è Un concetto fumoso Le abilità consolidate Dipendono Se hai avuto risultati Quindi Mese scorso Guarda Quante ragazze Siccome qua parliamo di approcci per strada Mese scorso Quante ragazze Da approcci per strada Sono riuscito ad andarci a letto Se Non sono almeno una O due Ma quantomeno almeno una Vuol dire che le abilità Non sono consolidate Per avere le abilità consolidate Io consiglio di tenere sempre come riferimento Gli ultimi tre mesi Quindi se Negli ultimi tre mesi Non c'è stata almeno una ragazza al mese Dagli approcci per strada Con la quale sei andato a letto Non hai abilità consolidate E lo stesso discorso vale anche per Adesso io Come ho detto Io mi occupo degli approcci per strada Ma lo stesso ragionamento vale per La discoteca Per le chat Per il circolo sociale Quindi Negli ultimi tre mesi Non sei andato a letto con una ragazza diversa Da circolo sociale Eccetera Ogni mese Quindi Stesso discorso per i vari ambiti Abilità consolidate Non è un concetto fumoso Dipende dai risultati che hai avuto Ok Quindi qua mi sono un po' dilungato su questo Quindi Dopo lo sprint iniziale Ti consiglio comunque di Rimanere in contatto Con questo mondo Perché poi Qua adesso sono discorsi un po' più avanzati Perché poi comunque Se non rimani a contatto con questo mondo Comunque Guardare informazioni Con assoluto Magari Stare a contatto con persone Che hanno risultati Perché se stai a contatto con sfigati Torni giù poi Poco per volta Torni giù Ivan ha scritto qualcosa Adesso la leggo Ivan Quindi Io per esempio Mi ero accorto Di un Cioè perché Comunque al mio livello Poi non è che sono Casanova Ok Però comunque fondamentalmente I dati Dicono che Ho più risultati Di Praticamente Quasi tutte le persone che conosco Negli approcci per strada Ok Quindi Al mio livello Non è che Cioè a chi chiedo Ok Quindi diventa poi un problema Se non hai altre persone A cui chiedere Altre persone che hanno più risultati di te Che magari ti fanno vedere nuove prospettive Diventa un problema Quindi bisogna sempre Rimanere a contatto Con informazioni di gente più esperta Per evitare di tornare indietro E cadere in altri errori Ok Io per esempio Un po' di mesi fa Forse 5-6 mesi fa Mi ero accorto Che c'era qualcosa Che non funzionava Nelle mie interazioni E poi avevo Ascoltando dei video Di una persona Chiaramente non in Italia Di una persona Molto più esperta Che Ha un lay count Per chi sa cos'è Il lay count sarebbe Il numero di ragazze Con cui si è andato letto In tutta la vita E questa volta È un lay count Di 300 ragazzi 400 ragazzi Una roba del genere E quindi È una persona Dalla quale posso imparare E lì avevo capito Una cosa che stavo Diciamo Sbagliando nelle mie interazioni Corretta quella Poi ho iniziato a ottenere Molti più risultati Quindi Ecco perché Rimanere sempre a contatto Comunque Con qualcuno Di più esperto Che ti mostra La strada Che ti fa vedere Diverse prospettive Ok Sono discorsi Molto più lunghi Allora Ho capito la domanda È capitato che una donna Se me la vuoi rispiegare Perché non l'ho capita È capitato che una donna Ad un locale Mi ha salutato una cliente Ovviamente non la conosco Mi ha salutato Forse intenditi Quella che ti ha salutato Era una cliente Ovviamente non la conosco Come devo provarci Iniziare a interagire con lei Ok Forse ho capito Quindi una che è venuta A un locale Ti ha salutato Tu lavori in quel locale Non ho capito Magari se me la spieghi Un po' un casino a spiegare E se me la spieghi Ti riesco a rispondere Se non ho capito la domanda Non posso risponderti Insomma il requisito Per rispondere la domanda È che io l'abbia capita Ad esempio Ce n'è qua una Che non ho capito Qua uno mi ha chiesto Magari sei sempre te Ivan Non lo so Qualcuno mi ha chiesto Ma cosa si intende Per effetto placebo Nel campo della seduzione Io i ragazzi Nei video li vedo Belli carichi E decisi Nell'approccio a una ragazza La stima ci sta Che domanda è Che domanda è Non ho capito Se la persona Mi ha fatto questa domanda Mi la vuole spiegare Ma cosa si intende Per effetto placebo Nel campo della seduzione Non lo so Se qualcuno Mi vuole spiegare Questa domanda Io non ho altre domande Quindi Poi come dicevo Magari la prossima volta Parliamo Della paura Del rifiuto Perché appunto È un argomento Che Che è venuto fuori Durante il corso Di due giorni Che c'è appena stato Gabriele se vuoi Sì sì Gabriele ho già risposto Alla tua domanda E te l'ho detto È stata la seconda domanda Alla quale ho risposto Quindi poi ti devi Riguardare il live Allora Carlo dice Grazie Luca per le risposte prima Sì prima Pensavo appunto Alle giapponesi Che non parlano inglese Sì Poi non è vero Che non parlano inglese Semplicemente Alcune non parlano inglese Alcune sì Se qualcuno domande Scriva Dai che Non chiudiamo In anticipo Che La chiacchierata del lunedì È sempre divertente Ultimamente Mi sto divertendo Nelle live Allora Ivan Forse ha scritto Un chiarimento Io riscrivi qualcosa Anche te Che Non c'ho voglia Di chiudere la live Adesso La donna Era lì per divertirsi Come me Poi ad un tratto Mi ha salutato Prima che andassi via Allora La parte della discoteca Io non me ne occupo Però fondamentalmente Che cazzo Se ti ha salutato Riagganciala In qualche modo Non so come Però riagganciala In qualche modo Era lì per divertirsi Come me Poi ad un tratto Mi ha salutato Prima che andassi via Che cazzo Se era una Che comunque Non conosci Magari ti ha visto Durante la serata Cioè Riagganciala In qualche modo Se vedi Ti saluta Però devi coglierlo Lì sul momento Cioè Devi andare lì Subito a parlarle Non so Magari Le prendevi il numero Per andare via Se stavi andando via O magari Potevi provare A baciarla direttamente Nei contesti di sera Si può fare Però non entro nel dettaglio Perché comunque Io non me ne occupo Quindi Chiaramente ho esperienza Perimetrale Anch'io però Non Non me ne occupo Dai qualcuno scrive qualcosa Se no Magari raccontiamo un po' Come è andato il corso Di due giorni Di giovedì e venerdì Gabriele Dai raccontiamo un po' Come è andata Però intanto Magari scrivete qualcosa Che vi rispondo Allora Adesso c'è stato Il giovedì e venerdì C'è stato il corso Di due giorni Erano due studenti Uno è collegato Gabriele L'altro Non dico il nome Perché Vuole rimanere anonimo E in totale Appuntalmente Gabriele Gabriele ha fatto Un instant date Il primo giorno Con una ragazza E poi Il giorno numero due Ha preso un numero Di una Proprio l'ultimo approccio Del secondo giorno È stato E poi L'ha rivista La mattina A doccia La mattina Si sono visti poi A pranzo Il giorno dopo Quindi Un instant date E un appuntamento E appunto Gabriele diceva che Non ha mai fatto Così tanti appuntamenti In vita sua A livello diciamo Di distanza Così Ravvicinati nel tempo Quindi Un instant date Il primo giorno Secondo giorno Ho preso il contatto Di una E poi rivista Il giorno dopo A pranzo Quindi Direi Più che buono Poi come ti ho detto Gabriele Poi ti spiego Tutto nella review Poi un sacco di cose Le abbiamo già viste Durante il corso E Niente Fondamentalmente C'è solo da fare più pratica È inevitabile Che all'inizio Magari i primi appuntamenti Non vadano benissimo È normalissimo Quindi Semplicemente Continua a farli Hai l'audio corso Continua a correggerti Dai qualcuno scriva qualcosa Invece l'altro ragazzo Che di cui non faccio il nome Perché non vuole che Vuole rimanere anonimo Che Ha sorpreso tutti Infatti poi Se avete visto le foto Che ho messo nel Nel gruppo Poi arriverà Che il video testimonianza Con tutti i video Che documentano Quello che è successo Roba assurde Che il primo giorno Il primo giorno Praticamente Dopo 15 approcci Una roba del genere Ecco Questo ragazzo qua Non aveva mai fatto approcci Per strada Anni E io ne ho 20 Non ho capito cosa vuoi dire Gabriele Quindi Questo ragazzo qua Che non aveva mai fatto approcci Per strada Che non so neanche se Se è collegato adesso Che praticamente Il primo approccio È stato veramente Traumatico Quasi Ci sono voluti Tipo 10-15 minuti Che Magari 15 minuti no Però tipo 5-10 minuti Che abbiamo seguito La ragazza Prima che lui Trovasse il coraggio Di approcciarla Perché comunque Il punto è che Se Racconto è fatto No Quella non lo racconto Perché comunque Non è Costruttivo Se vuoi raccontalo te Schievolo te nei commenti E presente Ha seguito questa ragazza Per tipo 5-10 minuti Prima di trovare il coraggio Di approcciarla Perché Se comunque Vede la ragazza Se io gli punto La ragazza Dalla quale andare E poi Lui non ci va Non stiamo risolvendo niente Quindi Bisogna passare Attraverso la difficoltà Per poi ottenere Risultato Se invece Passa la ragazza La seguiamo per un minuto Due minuti E lui non riesce ad andarci E cambiamo target Lì non stiamo lavorando su niente Quindi bisogna comunque Passare attraverso la difficoltà Per poi ottenere un miglioramento Per poi ottenere Delle abilità più solide Quindi ha seguito questa ragazza qua 5-10 minuti Chiaramente Ce l'ho anch'io L'ho seguito Anch'io E poi ha fatto questo approccio Veramente in una maniera Quasi da stalker E Quindi è stato interessante Vedere la differenza Tra questo primo approccio E poi l'ultimo approccio Della giornata Che Quindi Durante il primo giorno Ha fatto tipo 15 approcci 16 approcci Una roba del genere Poi ti vedo Cosa hai scritto Carlo Ho visto Quello che hai scritto qualcosa Poi vedo cosa hai scritto E Praticamente L'ultimo approccio Della giornata Era tipo Il quindicesimo Il sedicesimo Approccia questa ragazza qua Subito gli risponde bene E vanno in instant date E dopo tipo 50 minuti Riesce ad arrivare al bacio E praticamente A un certo punto Lei continuava a dare gli segnali E c'eravamo io e Gabriele Che eravamo seduti lì A un tavolino Perché comunque Stavamo seguendo Ristandati Lo seguivo con il microfono E praticamente Ciao Alberto E io siccome Ero lì con il microfono Quindi sentivo Tutto quello che dicevano A un certo punto Lui gli chiede Ma cosa ti piace fare Nel tempo libero E la ragazza Gli dice Scopare Lì siccome Io ero tipo A forse 3-4 metri di distanza Da loro Ero su un altro tavolo Tipo lì Mi ci siamo messi a ridere Io e Gabriele Tipo mi sono messo lì Con il menu Ho tirato su il menu Per non far vedere Alla ragazza Che stavo ridendo Perché Poi magari Gli schiavoci Che ci sgamavano Non è Non è bellissima Come cosa Quindi lei continuava A dare i segnali Iper positivi Però il coronamento Di questi segnali Super positivi E' stato A un certo punto Lui gli ha chiesto Ma cosa ti piace fare Nel tempo libero E lei ha risposto Scopare Da lì Ho capito Che forse Ci sarebbe stata Poi è arrivato Il bacio facilmente Purtroppo poi Era impegnata Doveva andare A una festa Di sera E quindi Non siamo riusciti A vederci Cioè Loro non sono riusciti A beccarsi Adesso lei è andata Un attimo In vacanza Per due settimane Tornano fra due settimane Vediamo se Riescono a combinare La cosa Lei L'ha invitata a uscire Praticamente Di sera Tardi Ha scritto Che tipo Devono organizzarsi Qualcosa Comunque Un sacco di segnali positivi Io che dal tavolo Da 3-4 metri Gli facevo segnali così Fai bacio Fai così Per non farmi vedere Dalla ragazza Sì Gabriele E niente È andato così Quindi per Quanto riguarda Questo studente Poi sì Secondo giorno Ho preso qualche numero Però Tanto comunque Dei numeri Non ci interessa Poi in caso Si trasformano In appuntamenti Allora lì Iniziamo già A parlare dei risultati Però il numero Comunque Non ci interessa Per il momento E quindi Il bilancio Poi è stato comunque Di un instant date E un bacio E per una persona Che non ha mai approcciato Per strada Direi che È parecchio buono Io per fare Forse il primo Il primo instant date Tipo l'ho fatto dopo dieci mesi Ma non perché Non sapevo come si faceva Più che altro perché Avevo paura a farli Mi ricordo che alcune volte Le ragazze mi invitavano A fare un instant date Tipo magari Aprivo In maniera indiretta Oppure dicevo Alla ragazza Che stavo cercando un mio amico Che così In zona E mi dicevano Ma se vuoi ti accompagno Se vuoi vengo con te Io gli dicevo No 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 Vado a solo E prendevo il numero Quindi avevo anche paura Fra gli instant date Quindi il primo Comunque l'ho fatto Dopo dieci mesi Per fare il primo Per fare il primo bacio Da approcci per strada Quindi gli instant date Più bacio Quello l'ho fatto Tipo dopo dieci mesi Che avevo iniziato Quindi Centinaia Anche migliaia Almeno migliaia Di approcci Ci sono passati E' interessante Vedere come invece Poi quando ho esperienza Che trasmetto Allo studente Siamo in grado Di accorciare Queste tempistiche In una maniera assurda Questo ragazzo Mai approcciato per strada E al quindicesimo Sedicesimo approccio Della giornata Della prima volta Che approcciato per strada E' riuscito a fare Instant date Più bacio Quindi E' abbastanza interessante E' stato interessante Vedere il contrasto Fra il primo approccio Della giornata E l'ultimo approccio Della giornata Adesso vado a pescare La domanda di Carlo Di prima Se qualcuno ha altre domande Scrivete Anche se comunque Vabbè Siamo quasi a un'ora Quindi Allora Vediamo Carlo Che dice Se ne faccio un sorso Allora Carlo dice Ho smesso Di fare game Per dire il fatto Che ho iniziato A viverla male Emozionalmente Un giorno feci un approccio Di giorno Andò malissimo Mi senti Imbarazzatissimo Una scena Da dimenticare Da quel momento Fare approccio di giorno È diventata un'impresa Domani torno sul campo Che consigli mi dai Carlo Porca di una puttana schifosa Fai un corso con me Basta fare cose sbagliate Capito? Per chi è inascolto Carlo lo conosco già Da un po' di tempo Carlo Tu stai continuando A fare cose sbagliate E' questo Il punto Continua a non avere risultati Continua Continua a viverla Sempre peggio Perché hai le informazioni Sbagliate Continua a fare cose sbagliate E quindi te la vivi Sempre peggio Ok? Quindi tu stai continuando A fare cose sbagliate E per questo che non arrivano Risultati e continua A viverla sempre più male Quindi Porca di una puttana Guardati i miei video Gratis Se vuoi Inizia a guardarti i miei video Gratis I miei video Contengono informazioni giuste Ok? Giuste perché Mi fanno ottenere risultati a me E li fanno ottenere agli studenti Quindi porca di una puttana Fai una merda di corso Con me E te lo dico così Perché comunque ci conosciamo Quindi Basta fare cose sbagliate Ok? E' ovvio che Continua a viverla sempre peggio Quindi E' inutile Continuare ad andare sul campo Se poi fai sempre le stesse cose Che poi si rivelano sbagliate Ok? Quindi questo è il consiglio Che ti do E' inutile continuare A uscire 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 Se poi fai cose sbagliate Perché non andrà meglio Per magia Io per quanto riguarda La parte dell'invito Vi faccio un esempio mio Per quanto riguarda La parte del portarsi A ragazza a casa Io studiavo Informazioni sbagliate Perché La parte del portarsi A ragazza a casa Non viene insegnata bene Anche a livello mondiale Molte cose vengono date Per scontate E che cazzo Non avevo risultati Ma non perché Non fossi capace io Perché studiavo Le informazioni sbagliate Se studi le informazioni sbagliate Non puoi avere risultati Non ce n'è Ok Quindi Basta fare cose sbagliate Carlo Inizia a fare le cose giuste E le cose giuste Sono quelle che spiegano i corsi Le cose giuste Sono quelle che insegno Nei video Che ci sono gratis Su YouTube In queste live Ok Quindi è inutile Continuare a fare le stesse cose Se sono cose sbagliate Ok Quindi Io non ho altro Se volete Stiamo qua chiacchierando Ancora Un paio d'ora Se volete No Io non ho altre domande Quindi se volete farmi domande Non so Ste live Mi stanno divertendo Ultimamente Dai qualcuno scriva qualcosa Bravo Carlo Poi iscrivimi Se no la chiudiamo Dai ragazzi Non fatemi chiudere la live Effettivamente Sto registrando un videocorso Che poi uscirà fra Un po' di mesi Penso gennaio o febbraio Dopo questa live Mi ero messo di registrare Il videocorso Però Non so Mi diverte Chiacchiare così Vedere le risposte Vedere che scrivete commenti Mi diverte Questa interazione Quindi come vi ho detto La prossima volta Magari parliamo Della paura Della rifiuto Perché appunto C'è questo studente qua Durante il corso Studente anonimo Del quale appunto Non faccio il nome Che appunto Si aspettava Che Non voleva Che ci fosse Anche la parte Dei rifiuti Quindi la parte Del fatto che Venisse rifiutato Prima di arrivare A un risultato Quindi poi magari La prossima volta Parliamo di Di sta cosa qua Matteo dice Fai una live Mentre approcci E ma come cazzo Faccio Mentre approccio Cioè Dovei andare lì Con il selfie stick Come faccio Si potrebbe fare Però Cioè Chiaramente Non è un approccio Diciamo vero Perché comunque La ragazza sarebbe Influenzata Dal fatto che sto filmando Quindi Non Si potrebbe fare Però chiaramente Sarebbe Bastante diverso Come faccio Poi mi faccio Seguire da qualcuno Non so Però non ci sarebbe L'audio Se mi faccio seguire Da qualcuno Che mi filma Da lontano Quindi Come faccio Matteo Scrivi la tua idea Magari la facciamo Gabriele dice Potevi chiudere La russa Sul treno Si Magari posso Raccontarla questa Che praticamente Non so se Non so se Raccontarvela Non so se Raccontarvela No dai Non ve la racconto Questa Non ve la racconto Dai se nessuno Nient'altro Chiudiamo Che siamo Praticamente a un'ora Quindi Se avete amici Che sono Se avete amici Che sono interessati A questi argomenti Potete invitarli Al gruppo facebook Quindi qua Mi sto rivolgendo A chi guarda Al gruppo facebook Potete invitarli C'è il tasto lì Per invitar la gente Se avete amici Che potrebbero essere interessati Agli approcci per strada Potete invitarli Ecco Importante Per chi fosse interessato Ai corsi I prezzi di lancio Durano fino al 31 di ottobre Il che significa Per chi sta guardando adesso Che Ci sono ancora tre giorni Tre giorni Poi i prezzi vanno su Ok Quindi per chi si iscrive In questi tre giorni Quanto meno per chi compila Il questionario Lì per Dei corsi In questi giorni Comunque Tiene il prezzo di lancio Anche se poi magari Il corso viene fatto Fra un mese Due mesi Sei mesi Ok Però Per chi si iscrive In questi tre giorni Che mancano Ci sono i prezzi di lancio Poi dopo andranno su Potete vedere tutto Sul sito Potete andare a vedere i prezzi Sul sito www.approciala.it Carlo Prezzi Vai sul sito Vai sul sito www.approciala.it Sezione corsi Ci sono i corsi al vivo Ci sono i corsi individuali Vai a vederli Lì Ok Se non li trovi Contatta l'assistenza clienti Al numero 351 646 6774 Quindi Alcuni appunto Hanno appena fatto i corsi Alcuni sono Sono iscritti lì Poi li faranno Fra qualche mese E niente Quindi i giochi Si stanno chiudendo Quindi per chi guarderà Questa live Poi da youtube O dalla pagina facebook I giochi saranno già chiusi Quindi Poi questo video Uscirà su youtube E sulla pagina facebook Lunedì prossimo Quindi sarà già Lunedì prossimo Sarà il 4 di novembre Quindi i prezzi di lancio Non ci saranno più Quindi I giochi si stanno chiudendo Io rimarrei qua Perché mi diverte Fare queste live Però Siccome non ci sono altre domande Abbiamo raccontato tutto Dei corsi E Ci vediamo La prossima volta E Ci vediamo Lunedì prossimo Con la prossima live Probabilmente parleremo Della paura del rifiuto Lunedì prossimo Ancora non lo so Però probabilmente sì Ci vediamo Ecco Ci vediamo domani Con i prossimi video Domani i video Tornano ad essere Su facebook Quindi non ci sarà più Il link A youtube Da domani i video Tornano su facebook Quindi Yuri Sarai contento I video tornano alle 12 Da domani Quindi I video tornano alle 12 Saranno su facebook Quindi non ci sarà il link A youtube Chiaramente poi usciranno Anche su youtube Alle 21 Mentre su facebook Escono alle 12 Matteo dice Puoi fare infield O è un problema Sì Gli infield Li stiamo già filmando Ne abbiamo già filmati diversi Infatti li pubblicherò Per adesso Penso che ne pubblicherò Uno al mese Perché comunque C'è da fare il montaggio C'è da censurare La faccia della ragazza Quindi Non è una roba Da due secondi Ne sto filmando Ne sto filmando anche Poi gli infield Quindi video A telecamera nascosta Degli approcci alle ragazze Quelli là In cui mi porto La ragazza a casa Quelli là Chiaramente Penso che li metterò Soltanto nel videocorso A pagamento Che uscirà Fra gennaio e febbraio Mentre Gli approcci Magari Dall'approccio Fino al numero Di ragazze E poi rivedo anche Perché non Non metterò Video Di ragazze che approccio Di cui prendo solo il numero Che poi non rivedo Metterò video Di ragazze che approccio Di cui prendo il numero Metterò anche la chat Per dimostrare Che c'è stato anche L'appuntamento Quindi non metterò Cose fumose Come fanno gli altri In Italia Oppure metterò Video di Instant date Quindi ragazze che approccio Per strada Che arrivano fino All'instant date Quindi queste qua Saranno le tipologie di video Che metterò su youtube Mentre quelli là Dove riesco a chiudere Quindi dove riesco Ad arrivare al sesso Quindi chiaramente Non posso filmare Anche in casa Anche se in realtà Potrei però Illegale Da quello che ho capito E le ragazze Che riesco a portarmi a casa Con i video lì Magari ne metterò Qualcuno pubblico Però Saranno poi Nel videocorso A pagamento Quindi E come ho detto Per adesso Penso ne metterò Uno al mese Su youtube Perché comunque C'è tutta È abbastanza lungo Comunque Censurare Il montaggio Adesso Se ne sta occupando Un ragazzo Del montaggio Quindi non me ne sto occupando io Però comunque È abbastanza lungo Il montaggio E la censura Più che altro Quindi Se nessuno ha altro a dire Io Chiuderei qui Signori Ci vediamo domani Con il prossimo video Alle 12 Lunedì prossimo Con la prossima diretta Carlo Scrivi a me Siccome ci conosciamo Per il corso Se hai domande Scrivi all'assistenza clienti Il numero è 351-646-6774 Per chi fosse interessato ai corsi www.approcciala.it Signori Buonasera Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.